mappa paraba 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 spoiler adesso andiamo in un posto magico porto nell'altra parte dove cazzo che cazzo dico cosa nello showcase è bella stanza sono tutti grandi cavalieri qua molto utili come stanza soprattutto perché se noi facciamo c'è uno switch vuoi premerlo? no perché se lo premessimo è giusto premessimo aspetta una plurale del congiuntivo imperfetto di premere allora è giusto io si che sono perché cazzo premi mi sono cagato addosso io sono un uomo studiato quello che dobbiamo fare è coprire i buchi qui della piscina se no la stanza si riempie di gas tossico moriamo Mario che questa è una speedrun no death no coltel no pistole no niente proviamo a menare i nemici attestati è l'ultimo emblema l'emblema del suono sembra che qualcuno abbia già cercato qui c'è uno switch vuoi premerlo? c'è la smetti di toccare le robe però la volontà del ricercatore si sono infettato ho fatto tutto quello che potevo ho solamente posticipato il progresso di qualche giorno la cosa che mi spaventa di più è che ogni giorno mi dimentico di te quindi preferisco una morte pacifica piuttosto che diventare un morto vivente in un'ora mi sarò addormentato eternamente spero che capirai la mia decisione addio è per sempre tuo Martin Crackhorn che fa stieni in forma è troppo pesante l'ha capito dopo tre ore ecco come si risolve l'enigma vuoi premere eh premilo si adesso la roba qui si è svuotata e possiamo aprire quest'armadietto con le granate esplosive molto utile mi raccomando ma dove cazzo è all'incribbon dov'è nel ferro da stiro qua siete pronti per il teletrasporto magico ole 70 euro per questa gita ficchiamo l'emblema del case l'emblema della zucchi e l'emblema di teo mammucari eccolo mamma mia che emozione unicorn eh qui c'è forse l'oggetto più utile del gioco allora fatica ma che fatica come pesante che il recete crank aspetta aspetta uomo treno aspetta eh eh fa un culo stronzo coglione il cane di deuterio non è morto con questi tanti colpi abbiamo sentito quel rumorino che era solamente un rumorino in realtà era la radio che Grazie a tutti. Quello che ci ha appena risposto alla radio era Brad, il pane, pilota dell'elicottero che ci ha abbandonato qua perché è un lurido bastardo se con l'elicottero dovresti essere quello che ci vede meglio, ma no perché sei un codardo. Guardalo. L'acqua sta correndo giù dal lato opposto perché giustamente l'acqua corre. Io non so tradurre. Via, serpente. Fucking snakes. Fuck shit. Fuck. Oh, oh, oh. Nyeh. Non mi prenderete mai. Pa-pa-ra-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Erano prima, che è successo? Eh. Oh, fuck. Eh, qui c'è un gargoyle. Qui c'è l'erba blu che questo significa che porca puttana, è vero, ci sono i ragni. Eh. Io direi, la serie finisce qui. Buonanotte. Che bello. La stanza del rilassamento in cui, a quanto pare, hanno le granate esplosive perché chi non ce le ha in casa, dai. Niente di speciale. È un letto di Minecraft. Mamma, guarda come mi sporca il tappeto. Testa di cazzo. Prendiamo qua il libro di Zatchbel. Libro rosso. Ho usato il lockpick per aprire la scrivania contenente i proiettili del fucile. Chi non ha una scrivania con i proiettili del fucile è una sedia per nani. Una scala riempita di acqua sporca. È un'acqua che te la sogni. Abbiamo preso la chiave magnetica immersa nell'acqua. Non funzionerà mai più. Ecco i maledetti bastardi. Come si muo' pezzo di me... Oh, il brucio il coccige, porca vacca. Davvero sono anche i ragnetti di merda che te ve le... Porca puttana! Quanti! Guarda, faccio una magica. Olè. Non lo voglio! Basta! Perché sono i vq pra dei nastri inchiostratori questi? Basta! Ah, già. Vabbè, lo faccio vedere solo per amusement. Pesco di merda! Basta! Cazzo fai? Drogato! Perché quello che ci ha appena attaccato prima era la pianta 42. Quante piante hanno fatto? Beh, non lo so. Boh, forse più di 41. Ma effettivamente... Non c'è scritto quante piante fanno perché... Ma sto gargoyle! Eh, mamma mia! 14 anni per spostare un gargoyle! Chi è che non sposta gargoyle in casa sua, dai! Mamma mia, che bello! Quanti gargoyli sono in questa casa, però! Drogato! Drogato! Il sogno mi realizzerò! Drogano!